Salmo 49, per il capo dei musici, dei figliuoli di core, Salmo. Udite questo, popoli tutti, porgete orecchio voi tutti gli abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri, tutti insieme. La mia bocca proferirà cose savie, e la meditazione del mio cuore sarà piena di senno. Io presterò l'orecchio alle sentenze e spiegherò a suon di cetra il mio enigma, ma perché temerei nei giorni dell'avversità quando mi circonda l'iniquità dei miei insidiatori, i quali confidarono nei loro grandi averi e si gloriano della grandezza delle loro ricchezze? Nessuno, però, può in alcun modo redimere il fratello, né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà mai sempre difetto. Non può farsi che i continui a vivere in perpetuo e non vegga la fossa, perché la vedrà. I savi muoiono, periscono del pari, il pazzo è lo stolto e lasciano ad altri i loro beni. L'intimo loro pensiero è che le loro case dureranno in eterno e le loro abitazioni, di età in età, danno i loro nomi alle nostre terre, ma l'uomo che in onore non dura, egli è simile alle bestie che periscono. Questa loro condotta è una follia, eppure i loro successori approvano i loro detti. Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore, e dal mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria ha da consumarsi nel soggiorno dei morti, ne avrà altra dimora, ma il Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Non temere, quando uno s'arricchisce, quando s'accresce la gloria della sua casa, poiché, quando morrà, non porterà seco nulla, la sua gloria non scenderà dietro a lui. Ben che tu, mentre vivi, ti reputi felice, e la gente ti lodi per i godimenti che ti procuri, tu te ne andrai alla generazione dei tuoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo, che è in onore e non ha intendimento, è simile alle bestie che periscono.